Salve ragazzi, questo video in realtà è una prefazione per un discorso più ampio ed è proprio cogliendo questa occasione di primo video di prefazione che vi chiedo immediatamente di iscrivervi al canale perché a seguito di questo seguiranno altri filmati, altri video nei quali parleremo in tutto e per tutto di questa serie di gruppi elettrogeni che vedete qui davanti a me in questi video che seguiranno andremo a cercare di capire come sono fatti cercheremo di capire quali sono i loro infiniti difetti e da dove vengono questi 4 gruppi elettrogeni sono non di fascia bassa, di più sono gruppi elettrogeni che costano meno di 100 euro a volte si trovano nuovi anche a 80 euro e vengono venduti praticamente in tutte le ferramente in tutti i centri di fai da te, Brico, Leroy Merlin, la ferramenta sotto casa, dovunque praticamente hanno la stessa forma da oltre 15 anni se non 20 e di volta in volta ogni anno ce li presentano sempre come più potenti più silenziosi, sempre più 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 fatto sta che io il primo l'ho comprato che era un 650 watt e ora mi pare che li vendano come 900 watt o giù di lì ma in realtà tra il primo e l'ultimo, il più recente io non ho notato nessuna differenza ve lo dico non attaccandoci utensili di chissà che potenza ve lo dico attaccandoci delle lampadine lampadine a filamento o lampadine a led non c'è assolutamente nessuna differenza tra 650 watt e 900 watt dichiarati dal più vecchio al più nuovo bene a questo punto colgo anche l'occasione per presentarvi i nostri quattro amici il primo, quello a sinistra, si chiama Zombolo è il più vecchio dei quattro oramai non è più funzionante vedete il suo occhietto sulla sinistra? è schiattato ed è uscito anche di fuori avevo cercato di fare un intervento d'emergenza durante un lavoro ma si era rotta la corda di avviamento aveva altri problemi eccetera e alla fine è rimasto così abbandonato e agonizzante fino a quando insomma non si sono persi alcuni pezzi ed è rimasto uno Zombolo più morto che vivo il secondo si chiama schiattalo no non sono quattro e sette nani tranquilli comunque il secondo si chiama schiattalo è un gruppo elettrogeno vivace anche troppo ha l'abitudine di avviarsi ha un rumore del motore simpatico devo dire solo che nel momento in cui lo andate a collegare a delle lampadine per illuminazione soprattutto ha il vizio di farle schiattare cioè ve le fa esplodere una dopo l'altra il problema è che passa da 220 da un voltaggio di 220 volts passa a 340, 350, 380 spara praticamente e schiatta tutto per questo si chiama schiattalo il terzo, quello arancione si chiama mortolo mortolo perché poverino sempre è nuovo qui li vedete sporchi fondamentalmente mortolo parte molto raramente ci potete buttare l'anima con l'avviamento a strappo proprio quando l'anima non ce l'avete più da un piccolo segno di vita della serie si avvia per 5 secondi massimo 15 secondi e poi torna a morire e quindi si spegne e per questo si chiama mortolo l'ultimo ma non ultimo mi è stato regalato i primi tre li ho comprati di tasca mia che fesseria eh l'ultimo mi è stato regalato ed era in uno stato pietoso gli mancavano i piedi alcuni supporti dei piedi erano addirittura rotti la maniglia era... la maniglia non c'era letteralmente e gli attacchi della maniglia erano... avevano le filettature rovinate insomma gli attacchi della maniglia erano inservibili anche il suo cappelletto giallo quello che si usa come serbatoio era fissato figuratevi con delle viti da legno e quindi insomma ehm... sì funzionava ma sembrava una una batteria professionale eh di every metal tutto quanto era un vibrare un suonare era un piccolo inferno e alla fine con un poco di pazienza ehm... l'ho... per così dire... gli ho dato una... un'inquadrata ehm... gli ho messo dei piedini presi da... da zombolo ehm... che altro ho fatto? al posto della maniglia eh che non avevo ci ho messo una catena e la parte gialla superiore della maniglia eh... non è altro che un bidoncino di olio quattro tempi tagliato e messo a ricoprire la catena in modo da poterlo afferrare senza problemi poi ovviamente ho dovuto rifare le filettature del... delle sedi eh... della maniglia e eh... anche le filettature eh... dei quattro bulloni laterali che vanno a reggere... a unire il serbatoio al resto del gruppo elettrogeno bene... noi eh... nei video successivi praticamente andremo a smontare eh... ognuno di questi quattro eh... personaggi eh... zombolo purtroppo lo smonteremo solo per continuare a cannibalizzarlo e prelevare pezzi a ricambi eh... schiattalo ha un problema evidente caratteriale e soprattutto all'alternatore quindi vedremo se l'alternatore di... del nostro compresso... del nostro gruppo elettrogeno blu eh... di schiattalo è recuperabile o dovremo fare un intervento eh... un trapianto da... da zombolo a schiattalo perché l'alternatore di zombolo eh... quando l'ho lasciato era ancora buono per quanto riguarda invece il nostro mortolo il... il... ce l'ho col compressore il gruppo elettrogeno arancione beh... lì dovremmo lavorare intanto sulla parte elettrica eh... del motore quindi cercare di capire se l'elettricità arriva alla candela eh... se... c'è un problema di squish all'interno del del cilindro eh... della... della testa eh... del motore e eh... anche se... c'è un problema di... di carburazione di... di tubo che non conduce la benzina cioè... i problemi per il fatto che non parte possono essere un'infinità per quanto riguarda invece Frankenstein beh... con lui vedremo se è possibile fare qualche miglioria anche perché insomma il suo sporco lavoro lo fa sporco ma lo fa eh... è regolare nel... nel... nella produzione di corrente quando si deve accendere lui garantisce che al terzo strappo di... della cordicella si avvia sempre si apre l'aria anzi si chiude l'aria e lui si avvia ok ragazzi eh... come vi dicevo all'inizio è importante che vi iscriviate è importante che vi iscriviate in modo che partecipiate attivamente a questi interventi in modo da eh... essere anche aggiornati e... capire anche voi ciò che magari non funziona su... nei vostri gruppi elettrogeni perché questi qua oggi li comprate e domani non funzionano più e non si sa perché cioè da un giorno all'altro nuovi eh... a volte uno butta lo scontrino fa questa colossale cazzata gli resta sto... sto coso sto... questo peso che tra l'altro mi pare pesi 17 kg un numero bruttissimo sfortunato e quindi... però insomma se si... se si potessero avviare alla fine farebbero il loro lavoro perché un... un trapano te lo fanno girare eh... un'illuminazione te la possono dare e fra l'altro si possono anche silenziare insomma si può costruire una... una scatola una cassa attorno per silenziarli e... e farli lavorare anche benino sono due tempi sono motori semplici si dovrebbero riparare con niente quindi... è proprio per questo che... eh... faremo... cercheremo di fare questo tipo di interventi eh... con me e con voi ok ragazzi? bene... io con questo... con questo è tutto vi saluto e vi rimando ai seguenti video ciao 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 ciao